Qui a Madexpo stiamo presentando una nuova collaborazione caittiva instaurato con l'Università di Genova, Facoltà di Architettura, per la realizzazione da parte dell'Università di un laboratorio del colore in supporto alle aziende, alle amministrazioni pubbliche e soprattutto per la divulgazione del colore. Di questo se ne sta occupando Francesca Salvetti, architetto che opera presso la Facoltà di Architettura. Aittiva ancora una volta ha portato avanti quello che è il suo progetto originale, che è più importante, che è quello della promozione della cultura. Il laboratorio del colore della Facoltà di Architettura di Genova, del Dipartimento del Design, si occuperà quindi assolutamente e della formazione e della progettazione e di tutto quello che riguarderà il colore soprattutto delle finiture dei centri storici.